Siamo qui con Stefano Rampinini e Paola Silva Coro nel due anime di un progetto che si tradurrà in una mostra alla Chiostro del Gramante a Milano. Stefano rappresenta GR Gruppo, questa azienda di Legnano con una trentina di dipendenti che lavora da oltre 35 anni nel tema della stampa e che ha già vinto la sfida del passaggio dell'artigianale al digitale. Paola è il tramite, direi il veicolo che sta portando e sta accompagnando questa azienda nel mondo dell'interior, quindi si sta già lavorando su vari settori da anni e la presenza al salone vuole essere appunto un messaggio ad un nuovo pubblico possibile. Paola? Sì, io tenevo molto alla presenza di GR in questo evento perché da anni collaboriamo insieme a diversi progetti di interior e di riqualificazione sia in ambienti di lavoro che retail e credo che GR abbia seguito molto bene questa onda evolutiva, infatti in questi anni si sono molto ampliati sia in termini di macchinari che di divisioni funzionali, giusto? Sì, in questi anni noi abbiamo portato avanti un progetto che è partito dalle mani, passando dalle stampate digitali, quindi tutto quello che era stampa digitale e oggi nell'azienda ci sono inseriti più reparti tra cui la freneria, l'officina meccanica, la sartoria, tutto quello che è il supporto dell'architettura, l'ingegneristica e la cantieristica nell'ambito del progetto a secco. Sì, come progettista per me è molto importante potermi avvalere di un partner in grado di seguire e risolvere tutte le problematiche e tutte le opportunità che possono nascere in un cantier a secco che vanno dalla stampa di immagini a ipertesti applicati sulle pareti e in questo GR che è partner anche di 3M da più di 10 anni, 20, ha una capacità dell'utilizzo di questi materiali che è una misura unica.